flip head classroom su carlo magno e la rinascita di un impero alla morte di re pepino nel 768 dopo cristo il regno dei franchi venne diviso tra i due figli carlo e carlo manno a carlo toccò la parte nord mentre a carlo manno la parte sud del regno carlo sposa desiderata la figlia del re dei longobardi desiderio ma nel 771 dopo cristo la ripudia e nello stesso anno muore carlo manno e carlo estende il suo dominio anche sulla parte che era del fratello carlo magno divenne così re di tutto il regno dei franchi nel 771 dopo cristo suo nonno si chiamava carlo martello e divenne famoso per aver frenato l'avanzata degli arabi a poitiers nel 732 dopo cristo tra i punti di forza di carlo vi era un potente esercito e l'alleanza con il papa e la chiesa di roma carlo magno era consapevole del fatto che governare un regno di vaste proporzioni era difficile così pensò bene di instaurare un rapporto fiduciario con l'aristocrazia guerriera questo stato di fatto oggettivo gettò le basi e le fondamenta del feudalesimo che si sviluppò nei secoli successivi in particolare nel decimo e undicesimo secolo durante il suo regno i domini di carlo magno erano circondati da tre temibili popolazioni gli arabi in spagna i sassoni a nord est i longobardi a sud come abbiamo detto carlo era circondato da nemici temibili e inoltre egli aveva bisogno di nuove terre per garantirsi la fedeltà dei suoi vassalli pertanto intraprese diverse campagne di conquista e una delle prime occasioni per espandersi gli venne offerta in italia l'occasione per espandere il suo dominio gli venne data a seguito della richiesta di aiuto del papa che sentendosi minacciato dai longobardi a nord chiese la protezione di carlo che intraprese la sua campagna di conquista del regno dei longobardi carlo assedia pavia dove si trovava re desiderio che qualche tempo dopo si arrende al re dei franchi che ottiene così i possedimenti dei longobardi che giungono così al termine del loro dominio su gran parte della penisola italiana carlo si impossessa della corona del regno d'italia e compie altre campagne di conquista come ad esempio la campagna della conquista dei territori dei sassoni e le terre più a sud che cadranno sotto il dominio franco tra gli obiettivi di carlo magno vi era anche quello di diffondere il cristianesimo nelle zone conquistate nelle quali si praticavano ancora culti pagani 778 dopo cristo carlo torna dalla spagna verso le sue terre attraversando le gole di roncisvalle i vasconi popolazioni del luogo tesero un agguato alla retroguarda di carlo che venne annientata e perse la vita anche orlando uno dei suoi più fidati uomini tale evento ispirò diversi racconti canzoni e poemi come ad esempio l'orlando furioso di ludovico ariosto che trasformò i vasconi in saraceni anche gli arabi erano vicini degni di rispetto e temuti da carlo che tuttavia riuscì a creare uno stato cuscinetto nella spagna del nord che consolidò i confini del suo regno carlo riuscì così a creare un impero degno di nota come non succedeva dai tempi dei romani dei quali egli si sentiva legittimo successore nella gloria e nel prestigio ma i tempi sono cambiati e carlo ha bisogno del sostegno della chiesa per far valere le sue pretese e far sì che il suo impero possa durare il più a lungo possibile nella notte di natale dell'ottocento dopo cristo papa leone terzo incorona carlo imperatore del sacro romano impero o impero carolingio un evento simbolico che racchiude il significato di rinascita di un impero dopo quello romano e la nascita di un impero cristiano un impero pertanto nato da un'unione politica e religiosa l'appoggio del papa e della chiesa sono decisivi e fondamentali per carlo che così è legittimato a regnare sul suo impero da amico e protettore del papa all'interno di un impero cristiano e questo ebbe come conseguenza un forte rapporto tra chiesa e impero carlo faceva controllare ad esempio l'operato dei vescovi attraverso gli arcivescovi e i parroci a loro volta precedevano le conquiste di carlo recandosi nelle terre a diffondere il vangelo e i principi fondamentali del cristianesimo carlo cercò in tutti i modi di rinforzare la sua posizione attraverso provvedimenti amministrativi e legislativi e dette molta importanza alla cultura consapevole del fatto che dopo la caduta dell'impero romano vi era stato un decadimento culturale e finanziò la costruzione di palazzi che dessero sfarzo alle città dell'impero e favorì il recupero della letteratura romana e inoltre egli cercò di creare figure strettamente legate all'imperatore i funzionari imperiali che avevano il compito di far rispettare le volontà dell'imperatore su tutto l'impero carlo fissa la sua corte ad aquisgrana a nord e lontano dal mar mediterraneo a testimonianza del fatto che l'impero da lui creato ha spostato il suo baricentro dall'area mediterranea a quella continentale e fa indire delle assemblee annuali alle quali partecipano ecclesiastici e laici e da queste assemblee nacquero i capitola che erano degli editti emanati dall'imperatore ossia delle regole che dovevano sostituire le regole presenti nei popoli del suo impero per gestire meglio il suo impero carlo creò dei territori 1 le contee 2 le marche la contea era la sua divisione in circoscrizioni del territorio affidata ai vassalli fedeli le marche invece erano un insieme di contee ossia dei territori posti a difesa dei confini una delle più famose è la marca spagnola che aveva l'obiettivo di difendere l'impero di carlo dalla minaccia araba ma l'impero di carlo è fragile i funzionari imperiali hanno scarso successo nel far rispettare le regole dell'imperatore e i vassalli si sentivano indipendenti da carlo anche la chiesa diventerà presto un problema per carlo da preziosa alleata la chiesa diventa sempre più potente grazie alla creazione di molti monasteri e all'estensione delle proprietà delle terre agli enti ecclesiastici carlo magno morì nell'814 dopo cristo lasciando il sacro romano impero o impero carolingio in una condizione di fragilità per altri 30 anni tuttavia il figlio ludovico sarebbe riuscito a mantenere unito l'impero successivamente l'impero che fu di carlo verrà suddiviso in tre parti 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 di carlo verrà suddiviso in tre parti